Un buon pomeriggio a tutti i follower di cicliste.eu e benvenuti a questa nuova puntata di Ciclista in streaming. L'ospite di questo pomeriggio è Deborah Silvestri che vedete qui accanto a me, una ragazza di 22 anni, veneta di Verona, che questa stagione è passata alla Passa Bortolo, dopo due buoni anni con l'Euro target di Giovanni Fidanza. Come raccontaci un attimino? Anzi, partiamo da quest'anno, invece di partire dall'inizio. Quest'anno hai cambiato squadra, magari per nuovi stimoli e sei partita subito abbastanza bene con la Valenziana. Sì, la mia squadra, prima che succedesse questo intoppo, siamo andate, abbiamo, abbiamo, corso il Valenziana, abbiamo fatto anche una buona prova di squadra, oltre che individualmente per me, insomma, ho avuto delle buone sensazioni durante quella settimana e con la squadra, appunto, anche se eravamo una squadra giovane, ci siamo fatte valere, infatti abbiamo, siamo anche riusciti a portare a casa la maglia di miglior giovane. Ecco, la più giovane, che è stata vinta dalla Tomasi. Da Greta. No, da Greta Marturano. Tu però sei, ti sei classificata nella classifica giovane al quinto posto, quindi sei rimasta soddisfatta di tutto, della gara, dell'inizio. Sì, sì, sono rimasta soddisfatta, avevo delle buone sensazioni e mi è dispiaciuto, come insomma, a tutte, doverci fermare. Però, insomma, il più importante è la salute in questo momento, quindi speriamo anche di ritornare presto a correre. Sì, sono d'accordo con te, insomma, prima la salute al primo posto e il tempo per correre ce n'è, ce n'è tanto, ma tu essendo al quarto anno, poteva essere, vista la partenza, poteva essere un anno, insomma, delle conferme, no? Perché negli anni precedenti non hai fatto grandissimi risultati o vittorie, però c'è stato un bel settimo posto a un italiano, c'è stato un altro quattordicenze, insomma, Debora, Silvestri, scelte. Cosa ti manca? Cosa ti è mancato? Ecco, ora andiamo al passaggio. Cosa ti è mancato in questi quattro anni? Forse un po' di esperienza, perché comunque i primi anni nella categoria Elite sono sempre quelli più duri e le atlete sono sempre comunque più grandi e hanno un livello altissimo, quindi secondo me l'esperienza mancava, che grazie comunque all'Euro Target sono riuscita a fare, perché comunque ho fatto gara all'estero, ho corso il mio primo giro d'Italia e quindi ho fatto esperienza. Ovvio, c'è ancora da crescere, da migliorarsi e si vedrà. Tra l'altro il Giro d'Italia sei stata, diciamo, per alcune tappe la nostra inviata in gara, perché ci hai mandato alcuni commenti a caldo della gara, ci hai spiegato alcuni particolari, come è stato questo primo Giro d'Italia per te? È stata una grande emozione, perché comunque l'ho sempre visto in tv indifferita, le tappe o comunque andavo sul luogo dove si svolgevano e vederle gareggiare, era un sogno per me, vederle, diciamo, le mie idole. E averlo corso, tutta è un'altra storia, insomma, ero emozionata, poi avevo appena finito gli esami, quindi è stato tutto un anno di sorprese. Ecco, qui ci sono i primi commenti, è arrivata subito la nostra Albina di Santoro, che salutiamo e che ti saluta, Giorgio Turina, che dice, ottima ciclistica e ottima studentessa. Eh sì, era un mio professore a scuola. Cioè non è mai stato mio professore, però è un professore della scuola che ho frequentato e quindi parlavo spesso con lui di ciclismo. Ecco, ma... Eh... Quindi, cosa hai perseguito di studi fino alla maturità e se hai poi intrapreso qualche facoltà o...? Allora, ho studiato alberghiero, all'Istituto Luigi Carnacina e poi mi sono fermata con gli studi. Lì non sto facendo università. Mi dedico solo alla bici. Ecco, ora ti stai dedicando alla bici e comunque il tuo diploma in mano ce l'hai e ha intenzione però di puntare su questo studio che hai fatto. Perché l'alberghiero? Allora, beh, per ora no, perché comunque finché posso correre mi do alla bici. Poi un futuro, se non dovesse più andare o comunque la carriera prima o poi da ciclista finirà, diciamo che ho un piano B che è appunto il settore alberghiero, ristorazione e così. Mi piace cucinare, quindi l'ho scelto principalmente per quello. Ecco. E quindi poi in bicicletta, insomma, il ciclismo è anche uno sport turistico, no? Perché viaggiate tanto sia in bici che con altri mezzi e hai anche modo di visitare tanti hotel, tante strutture che magari ci puoi trarre qualche spunto poi per il futuro. Sì, quello sì. Infatti mi capita spesso di far più caso, diciamo, a come servono i piatti. Io farei così, io farei così. Esatto, sì, sì. Bene, allora, si punta tutto sul ciclismo per adesso? Sei una ragazza che si programma, si autoprogramma oppure che vivi un po' la giornata? Cioè come l'hai organizzata questo tuo tempo, questo tuo presente con la bicicletta? Ma, mi autoprogrammo nel senso, vivo la giornata. Cioè, ho la mia tabella, i miei preparatori della squadra e, diciamo, tutto lo staff che ci segue, però me lo gestisco io, insomma, l'uscita in bici sia la mattina e il pomeriggio. Quindi sono molto libera. Eh, quindi vai più sulle sensazioni che no sui watt? Ah, no, beh, lì no. No, no, lì no. Da quest'anno la Fassa Bortola ha deciso di montarci il, diciamo, il sensore di potenza. Esatto. E quindi ci basiamo su quelli. E quindi qual è stata la differenza che hai trovato tra gli allenamenti che facevi con Giovanni Fidanza, che è un grande esperto, no, di ciclismo, e quelli che stai facendo quest'anno? Sì, ci sono delle differenze. Ma diciamo che più dall'anno scorso a quest'anno la differenza è stata dalle categorie giovanili come esordiente allievi che allenandomi con la squadra, insomma, non seguivamo una tabella, si allenava più a sensazione o comunque era ancora un gioco. Quindi allenandosi anche poi con la squadra è tutto un altro ritmo, tutto un altro andare. Cioè, sempre magari con la squadra l'ha volata il cartello, cioè si vive un po' l'allenamento in giornata. Mentre da quando poi sono passata junior o elite, allora l'allenamento è un po' più programmato, insomma. Anche negli anni passati nell'EroTarget li allenavate con i Watt e tutti gli strumenti del caso. Sì, avevamo il power tap sulla ruota. Ecco, ma per chi non lo conosce questo aggeggio, come me, che noi a quei tempi non ci sapeva i computer che ti dicevano tutte queste dati, no? Sì, andavo a pulsazioni e ho conosciuto il cardiofrequenzimetro, ma personalmente non ho conosciuto l'uso del Watt. Come ci si approccia con questo tipo di allenamento? Come viene utilizzato e come riesci a vedere se migliori? Allora, innanzitutto si parte da un test, che è il test incrementale, dove praticamente c'è ricavi dei parametri, che sono come quelli del cardio, insomma, lungo, medio, soglia o VO2. E inizialmente, se usi Watt, è difficile tenere il vattaggio, perché comunque succede di avere molto sbalzo, confronto magari il cuore. Ovvio, sono più precisi, confronto al cardio, perché innanzitutto il cuore va anche a giornate, tipo se sei più stressato, meno stressato, se sei stanco, mentre il Watt è un parametro che comunque si basa sulla forza che tu metti nella pedalata. Quindi sicuramente più preciso del cardio. Però inizialmente, anche io la prima volta che usavo, facevo fatica a rimanere appunto nel range di Watt che dovevo utilizzare in quel momento lì. Ho capito. Quindi, invece magari di percorrere un chilometro in un certo tempo per migliorare la potenza aerobica, con il Watt devi lavorare per un certo tempo a determinate Watt. Esatto. Esatto, esatto. In base, naturalmente, al test, il test ti dirà che te hai totte Watt e quindi l'allenatore per migliorarti e per aumentarti questa forza ti fa allenare su dei range che questa macchina ti controlla. Esatto, sì. Però anche l'utilizzo... Poi io sono una che comunque in gara non fa tanto caso al cardio, ai Watt. Insomma, lì in gara vado a sensazione. Però per l'allenamento, visto che è molto diverso dall'usare il cardio, quello sì. Ecco, però c'è una persona, una ciclista, tu sei in gara e hai un totte Watt e in quella gara ti segnala che ne stai producendo meno. Se non ce la fai, non ce la fai. Cioè, voglio dire, ecco, come funziona tutto questo aspetto. Perché tanti pensano, dice, c'è il Wattometro, io vado a dove posso andare, 300 Watt, ma bisogna andarci. Spiegano in parole povere. Bisogna avere le gambe. Ma però in gara non faccio caso, non guardo i Watt. Vado più a quello che sento io, a sensazione. Sì, a sensazione. Perché secondo me poi influisce. Ovvio, in gara fai Watt, Wattaggi più alti, perché comunque quando sei a tutta così, appunto, i Watt si alzano. Però non guardandoli non ci faccio caso, ecco. Magari ti avvisa che stai andando sopra la tua soglia e che quindi sarebbe meglio che tu stassi un pochino sotto. Però come si fa? Esatto, come si fa? In gara è in gara, bisogna andare. Non è che uno gli può dire, ragazze, andate un pochino più piano. Ecco, ma quando sei lì in quel momento, che sei a tutta, che non ce la fai più, che pensieri hai? Eh, che devo resistere. Che non devo mollare. Io una volta mi sono trovato in una gara, in una crisi che non volevo però rimanere staccato. E allora cercavo in tutti i modi di forare e non mi riuscivo a forare. Poi alla fine mi è passata la crisi. No, beh, quello non l'ho mai fatto. Lo ammetto. Io invece, lo ammetto, ho fatto anche questo, sì. Perché quando si va in crisi è dura la storia, diciamolo un po'. Oh sì, quello sì. È difficile portare all'arrivo il culo all'arrivo quando non ce la si fa più. Però dai, bisogna stringere i denti e tenere duro. Perché comunque si sa che siamo esseri umani, quindi non c'è niente di matematico e in qualsiasi momento della gara si possono anche cambiare, no? Le sensazioni del corpo e quindi passare da da una situazione a un'altra. Esatto, esatto. A me è capitato tipo certe gare che all'inizio ho detto no, qua non la finisco oggi oppure non ce la posso fare. Invece dopo un po' di chilometri insomma mi sono sbloccata. Soprattutto nelle corse a tappe soprattutto nelle corse a tappe che comunque un po' per la stanchezza dei giorni prima ripartire il giorno dopo si sente sulle gambe però dopo si va. Ti piacciono i fili a tappe oppure ne faresti anche almeno? No, mi piacciono quello sì. Ovvio essendo non ne ho fatti tantissimi per ora però comunque anche il contesto tutto quello che c'è dietro sono stressanti perché comunque mentalmente richiedono tanto sforzo cioè oltre che sforzo fisico anche uno sforzo mentale però sono belli da fare. Ecco, ma spieghiamola a chi non l'ha mai fatto un giro a tappe e magari si mette davanti alla televisione a dire anche delle parole poco carine ai corridori che rimangano staccati. Qual è la vita che fa una ciclista che partecipa a un giro a tappe? Dalla mattina alla sera finché non va a letto. Ok, allora ci si sveglia alla mattina si fa colazione o colazione rinforzata insomma anche con la pasta dipende l'ora della partenza della tappa di solito la partenza è sempre verso mezzogiorno le una delle tappe quindi si fa una colazione abbondante si corre e insomma si va sul posto gara riscaldamento cerimonia protocollare firma del foglio firma si corre e post diciamo corsa si fa un pranzo o comunque si mangia qualcosa si ritorna in hotel e si fanno solitamente i massaggi e poi si cena e si va a dormire insomma un pasto per integrare lo sforzo che avete fatto e questo va di moda insomma un po' in tutti gli sport e poi il riposino doccia e preparazione per il massaggio esatto si dopo il massaggio di nuovo sul letto o al riposo comunque si si non diciamo che non ci sono le forze per andare in giro o comunque ci si riposa perché si sa che il giorno dopo bisogna ritornare in sella e essere di nuovo pronte per la prossima tappa ecco questa insomma è la vita da recluse altro che quarantena perché è una vita da recluse che fanno i ciclisti e le cicliste durante un gira a tappe no si vive solo in quell'ambiente chiusi da tutto il resto del mondo no vabbè non è così tragico comunque sei con le compagne c'è anche il lato divertente dei giri a tappe insomma lo stare insieme alle compagne condividere comunque la quotidianità di quei giorni oltre che magari lo stress perché alla fine si arriva stressate però c'è anche il lato divertente insomma ecco forse la bellezza il motivo per cui mi piace di più il femminile del maschile a parte altre cose ma è proprio perché voi riuscite a trovare il divertimento anche in un momento di reclusione come il Giro d'Italia perché comunque state in bicicletta correte fatica arrivate doccia massaggi e sì state insieme alle compagne ovvio questo con la squadra con il resto delle ragazze che sono in albergo insieme a voi però insomma c'è poco tempo per fare ora diciamo questo adesso ci sono cellulari ci sono ma in gara il cellulare chattate anche in gara su whatsapp no no in gara nelle gare importanti abbiamo la radiolina quindi ascoltiamo le direttive però il cellulare rimane nel borsone insomma ah proprio è obbligatorio nel borsone quindi niente instagram niente facebook no no pedalare e basta quindi niente foto eccetera e cosa ti insegna un giro d'italia oltre a non mollare mai alla fatica qual è la differenza appunto che poi volendo sono gare in linea però che si corrono un giorno dietro l'altro no qual è la differenza mentalmente fisicamente allora comunque ti insegna cioè secondo me un giro d'italia ti insegna appunto a tener duro a non mollare e comunque a metterci tutta tutta te stessa perché il giorno dopo più i giorni passano più comunque ti senti stanca poi per me che comunque era uno dei il primo giro d'italia non ero mai stata abituata a dei chilometraggi così o comunque a uno sforzo fisico così duro e prolungato nel tempo e ovvio serve esperienza infatti ho cercato di raccogliere dalle atleti più grandi diciamo i consigli anche per rimanere lucida mentalmente o insomma affrontare al meglio questo giro vedo comunque che nella tua breve carriera da da under 23 elite ma anche da junior che sei riuscita a essere protagonista nelle gare forse più dure e quelle più importanti no e già il primo anno al giro della Toscana hai fatto un sesto posto sei hai fatto un buon giro ti sei piazzata nelle 30 all'italiano a liberazione che è una gara dura anche quella no e e così poi anche l'anno dopo addirittura settima all'italiano il secondo anno il primo anno che eri con l'euro target e decima a liberazione sei sempre lì sei sempre lì giro delle marche lo scorso anni fa lo scorso anno e il 14esimo all'italiano sei sempre lì sei sempre lì ma cos'è che ti manca per andare un pochino più avanti non sarà un fatto di timidezza credo no no penso un po' di esperienza e basta un po' di gamba un po' di sì un po' di esperienza sì sono sempre lì quindi quest'anno era un po' l'anno in cui volevo dimostrare che potevo esserci insomma però adesso per adesso la situazione è questa quindi ovvio mi farò trovare pronta se il calendario ricomincerà ricomincerà ecco ma che tipo di passista veloce sei perché ce ne sono tanti tipi di passisti veloci no di solito sono passista quando uno non va forte in salita o è passista uno che si mette davanti e mena 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 oppure c'è anche il passista che hai 60 all'ora nelle gambe per qualche chilometro e quindi può vincere anche con colpaccio agli ultimi chilometri che tipo di passista è velocista sei diciamo che me la cavo sui percorsi ondulati e tengo nelle salite non troppo non troppo lunghe e poi riesco a giocare non sono una velocista ma in un gruppetto ristretto insomma posso dire la mia tipo una tonne di gruppo c'è chi è più veloce di te sei diciamo l'ultima ruota della velocista tua diciamo ecco sì diciamo così sì in questa stagione salvo che il coronavirus si dissolva che programmi riavete fatto con la vostra col vostro team per il calendario usci che è uscito per adesso non saprei sicuramente le gare in Italia le correremo le gare in Italia UCI le correremo tutte cioè tutte per quanto riguarda quelle all'estero non sappiamo ne ancora niente quindi perché dipende se venite invitati oppure no esatto dipende anche come le altre nazioni decidono di affrontare appunto l'invito a persone straniere sì dal 3 giugno dovrebbero riaprire tutte le frontiere non dovrebbero esserci problemi però bisogna vedere un po' come si evolve il tutto intanto Albina ci dice che t'ha visto molte volte gareggiare e che sei tosta che non molli mai eh sì sì dai su quello è vero senti perché il ciclismo? ma perché allora correva mio papà non a livello agonistico però andava in bici e a me io quando ero piccola andavo spesso in bici ma quella normale un giorno eh andando in paese ho visto questa squadra di ragazzini che poi ho corso lì da giovanissima lazzanese ho visto questa squadra allenarsi e gli ho detto mio papà voglio andare in bici anch'io voglio avere una bici così solo che ero ancora troppo piccola cioè dovevo iniziare l'anno dopo perché ero ancora piccola e quindi ogni sapevo quando si allenavano e andavo sempre là a guardarli e niente dopo l'anno dopo sono sono in partita anch'io quindi ti sei fatta tutte le categorie giovanissime sì sì da G1 da G1 sì e lì ti sei divertita un sacco sì sì diciamo che sono stati gli anni più belli perché comunque si correva per divertimento e il gruppo di bambini facevi la gara andavi a giocare lo vivevi con spianiseratezza insomma poi il passaggio tra gli esordienti e le prime soddisfazioni anche tricolori sì infatti da esordiente esordiente primo anno ho fatto terza al campionato italiano e esordiente secondo anno e ho arrivato a seconda e anche lì avevamo un bel gruppo una bella squadra e era tutto un divertimento poi sì bisognava iniziare ad andare nella direzione un po' più seria della cosa però quando si cresce si sa e tende un pochino a sparire la spianiseratezza di quando siamo più giovani e bisogna cominciare a pensare anche un pochino più concretamente e questo è successo anche nell'allieve è stato un altro bel salto di categoria sì esatto però il salto l'ho più sentito da allieva junior come tipo di allenamento perché appunto prima era tutto un gioco fino allieve non sono mai stata diciamo stressata o in quegli anni anzi la vivevo molto allegramente una cosa strana che mi risalta nella tua carriera è che una ragazza delle tue caratteristiche fino alle categorie giovani faceva anche pista e si sa che la pista fa molto bene anche per gli stradisti e poi dopo hai mollato o come mai questa scelta un pochino illogica ecco per la mentalità di oggi ma non è che abbia mollato la pista il fatto è che fino a qualche anno fa ce n'erano ancora di gare e quindi andavo a farle perché comunque anche l'anno scorso ho corso l'italiano Derni e anche l'altro anno però come gare come gare non non ce ne sono più state anche i campionati italiani li hanno sempre fatti un po' di qua un po' di là quindi era anche difficile inserirli nel nel calendario se si fa strada e quindi l'ho mollata per quello ma non perché non mi piace più o non si esatto praticamente siete costrette quasi a a a tralasciare la pista che o si entra in nazionale e allora lì si va sotto salvoldi con allenamenti diciamo anche abbastanza duri però c'è modo di crescere oppure le gare non ci sono esatto quindi non si va più in pista e si predilige la strada insomma e questo diciamo è un argomento che andrebbe che bisogna sollecitare le istituzioni sportive perché ne prendessero atto di questa situazione che così si divide un attimino il gruppo delle cicliste tra quelle che vengono per motivi giusti di risultato per l'amore del cielo seguite in maniera migliore dai cittì e quelle che si ritrovano diciamolo in mezzo alla strada perché potete fare la strada con l'organizzazione del team degli allenatori per l'amore del cielo ma però la pista non c'è gare quindi dove vai esatto si si è persa un po' visto che anche comunque hanno chiuso Montichiali dove facevano le tre sere del Garda o comunque tutte le gare invernali che fino a junior le facevo e come inizio di stagione diciamo ti dava un po' la gamba quello spunto per le prime gare su strada di stagione adesso speriamo che intanto lo rimettino in regola e lo riaprano però e che magari riorganizzino di nuovo le gare ecco un'altra cosa che mi piaceva a tempi miei erano le tipopista queste gare che si correvano in notturna e che c'erano quelle 5-6-10 gare all'anno erano divertentissime perché c'era un monte di gente le gare erano brevi si andava tutta di notte sembrava anche andare più forte sono proprio sparite del tutto ma qui a Verona ce ne sono di tipopista però comunque arrivano fino agli allievi e e le donne comunque per donne non ce ne sono infatti quando le facevo da esordiente allieva correvo sempre con i maschi quando le facevo diciamo che non è non era buona non è stata comunque un'abitudine farle comunque organizzarle per per le donne a parte che magari non c'era neanche così tanta partecipazione essendo comunque tutte da lontano ecco ma come ma secondo te queste donne a una parte degli a una parte de 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 dello sport alla parte brutta maschile dello sport sono d'intraccio cioè non 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 gli viene riconosciuto le stesse i diritti le stesse le stesse possibilità perché non vi ci vogliano quando invece magari ce ne fosse ma questo non saprei fortunatamente in questi ultimi anni comunque il ciclismo femminile sta crescendo infatti e lo dimostra anche il fatto che sono entrate in vigore comunque le regole del world tour anche qui da noi con le squadre world tour che quest'anno sono otto e quindi stiamo crescendo forse un discorso di numeri non saprei perché il ciclismo femminile in particolare nel campo femminile ci regala tante medaglie tante soddisfazioni a tutti a tutti i livelli cioè pista strada mondiali con la bastianelli con la guderso da quando iniziò la cappellotto col primo mondiale è andato sempre in migliorando con il fuoristrada anche lì siamo competitivi su tutti i terreni però donne che fanno pubblicità cicliste non se ne vedono al limite ci può essere la pellegrini nel nuoto non potete diventare professioniste perché ecco c'è questo accanimento avverso la donna ma penso che un po' sia anche la società non lo so da parte cioè comunque come ho detto prima in questi ultimi anni il nostro movimento sta crescendo tantissimo e diciamo che rispetto magari agli stati esteri noi siamo ancora un po' indietro come Italia perché comunque all'estero anche il ciclismo nel mondo femminile è valutato quasi come quello maschile noi pian piano stiamo arrivando anche lì si spera il più presto possibile perché comunque la fatica che fanno i maschi la facciamo anche noi e quindi speriamo e bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno si guardiamo il bicchiere mezzo pieno comunque già il fatto che anche all'estero molte gare ma anche qui in Italia molte gare maschili le organizzano anche per le donne questo è già un passo avanti come ad esempio quest'anno una gara nuova erano le tre vali varesine che è un classico una classica che comunque fanno anche i maschi e questa conoscendo il percorso e le tue noti potrebbe essere una corsa che potresti dire la tua speriamo vedremo come va la stagione se si inizierà e come sarà la condizione e questa nuova questa new entry importantissima no? qual è la Paris-Giroubaix come la vedi ti senti predisposta per questa gara massacrante oppure ma vederla in tv sembra emozionante comunque non ho mai corso nel vero pavè diciamo delle fiandre o comunque del Belgio quindi sarebbe un'emozione per la prima volta farla poi comunque arrivare nel velodromo di Roubaix che ha la sua storia sarebbe bello e poi c'è all'orizzonte nel 2022 si parla di un ritorno al Tour de France no? il Tour de France che che magari i francesi smisero di fare perché la nostra Luperini li vinceva tutti non lo so e comunque adesso sembra che ritorni il Tour de France e lì è roba dura eh eh sì però comunque sarebbe una bella cosa per il movimento femminile per crescere anche eh e magari sensibilizzare il il pubblico a vederci e a tifarci come coi maschi sì e che poi a sentire voi magari c'è una certa nostalgia dell'estero no? perché cos'è che secondo te c'è hanno qualcosa in più all'estero che permette alle donne di poter fare ciclismo lo sport in maniera eh riconosciutissima eh questo non saprei forse la mentalità che hanno all'estero però non saprei l'importante è che comunque anche qui in Italia ci stiamo muovendo per per crescere anche noi come movimento sì eh la mentalità giusta diciamo che la filosofia giusta eh dovrebbe essere codesta è quella di di guardare avanti con la speranza però insomma eh la speranza sai c'è un detto che magari è meglio non dirlo però ci vorrebbe anche sarebbe anche l'ora nel 2020 che le istituzioni eh si decidessero a a perlomeno allinearsi agli altri stati europei visto che gli piace stare in Europa e non solo per qualche altro interesse ecco ma anche per per valorizzare tutto lo sport dilettantistico femminile a livello globale senti a livello di allenamento se parlato che utilizzi test cardio quindi voi donne siete super informate ormai non è che andate a fare la girata in bicicletta no no adesso anche nelle donne cioè cominciamo o comunque da anni che si inizia a far sul serio e di avere tabelle ed essere seguite come una come se fossimo una squadra maschile ecco intervistando la la Meucci che è una tua collega avversaria o rimasi sorpreso quando quando questa ragazza mi confidò che una volta ogni totte una volta ogni 15 giorni insomma ogni totte tempo si faceva 180 km dietro moto a tutta no per allenare distanza e velocità allenamenti che magari io facevo da professionista ma te come come ti alleni sotto questo aspetto cioè sì le tabelle le quali sono i chilometraggi più lunghi che fai per affrontare queste gare elite allora i chilometraggi più lunghi li abbiamo fatti quest'inverno quando il fine settimana ci trovavamo con tutta la squadra ma arrivavamo massimo a 5 ore non di più in bici e sui 140 150 km quindi si parla di più altre cose che non la distanza sì dopo aver fatto comunque l'inverno fondo inizi a fare un po' più di qualità che quantità comunque come velocizzazioni o comunque le solite cose che fanno tutte insomma SFR e ma dal primo dall'esordio un under 23 a oggi cos'è 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 migliorato in te come atleta ma è migliorato sicuramente la resistenza perché comunque arrivavi a fare gare da 70 80 km così e farne gare da 130 e quindi la resistenza ma anche in salita mi sento migliorata molto ogni anno qualcosa in più miglioro quindi c'è un margine l'immagine di miglioramento secondo te c'è ancora e quindi sotto tutta peccato per quest'anno perché ha un po' intracciato i piani a tutte a tutte voi adesso vi sarete concentrate per questo finale di stagione sperando che venga che si possa disputare sì ecco ma una buona cuoca come te che ha studiato anche alberghiero e quindi come si alimenta durante la settimana hai un nutrizionista il fai da te come ti nutri abbiamo una nutrizionista che ci segue che è Laura Martinelli e niente ci dà a ognuna il piano alimentare durante la settimana però non mangiamo niente di strano da una persona normale insomma sì consigli alimentari adatti per lo sportivo qualche peccasino di gola ci sarà però non si dice ma sì quello sempre ci deve essere il pasto libero tanto voglio dire non c'è nessun segreto però quindi cioè il pasto libero è un po' come il giorno di riposo è sacro siete professioniste a livello a 360 gradi cioè non si può dire che una ragazza come te indipendentemente da chi vince di più o chi vince meno ma la vita della ciclista la fate tutte o più o meno tutte alla stessa maniera quindi siete professionisti a tutti gli effetti perché qui si vogliano si ostinano in Italia solo in Italia a non volervi riconosce come professionisti cioè lo Stato non vi riconosce come professionista perché? eh bella domanda questa vorrei tanto saperlo anch'io no comunque sì poi in questi ultimi anni i livelli sono veramente alti quindi bisogna curare nel dettaglio cioè tutte tutte le cose dall'allenamento all'alimentazione e per essere competitive comunque abbiamo visto che comunque anche come cicliste italiane siamo competitive anche all'estero eh con Marta con Letizia cioè comunque anche nelle gare all'estero ci siamo insomma senti e invece ritornando alla strada questa il problema chiamato di semplicemente sicurezza stradale come lo vivi tu che abiti in una zona anche abbastanza trafficata non so se sei proprio di Verona città oppure come lo vive una ragazza che la mattina insomma che durante il giorno prende la bici e va a fare l'allenamento a cosa va incontro cosa ti sente dire allora io sono un po' fuori dal centro però diciamo che è sempre più pericoloso insomma devi sempre essere attenta avere mille occhi e a quanto pare gli automobilisti non sono sempre molto gentili in questo diciamo in questo periodo che comunque da adesso il traffico è un po' ritornato alla normalità ma le prime due settimane post fase 2 che c'erano poche macchine si stava già meglio in strada o comunque avevi meno timore di incontrare qualche pazzo quello che ti fa il pelo quello che ti sorpassa poi ti frena davanti insomma bisogna stare attenti per strada quindi lì voi donne non siete favorite nel senso il gentil sesso no 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 mi proprio l'automobilista ecco ma un consiglio alle due a tutte le cicliste da parte tua per cercare di essere di stare in regola più possibile anche voi no qual è sicuramente di rispettare il codice della strada quindi semafori rossi precedenze e tutto quello che ci va dietro di indossare comunque abiti riconoscibili soprattutto adesso che è estate e quindi le giornate sono belle è più difficile che non ti vedano però in inverno insomma di che magari c'è il giorno di foschia al giorno di nebbia al giorno nuvoloso di aver comunque addosso vestiti visibili e non neri che così all'automobilista dai subito all'occhio e poi ovviamente di aver sempre le lucine sulla bici in modo che se fai qualche galleria o ritorni che magari un po' più tardi del solito con quelle lì ti possano vedere ecco sempre riguardo al riferimento della sicurezza durante le gare secondo te le gare sono organizzate bene siete cioè potete correre tranquillamente sapendo che siete state disputando una gara in completa sicurezza oppure a volte a volte certe gare è difficile chiudere il traffico e troviamo sempre delle macchine magari nella corsia opposta ed è un po' pericoloso ovviamente sta un po' anche a noi insomma segnalarle se dovesse esserci questo queste macchine insomma sulla sinistra però sì certe gare non siamo del tutto sicure soprattutto quelle in linea che quindi non sei in un circuito chiuso al 100% ecco io proprio l'anno scorso anno durante il Giro d'Italia mi dispiacque per gli organizzatori però insomma ci fu delle polemiche durante la gara che poi videro l'esclusione di alcune ritardatari insomma però a parte questo si venne a capo che non c'erano le staffette che praticamente una ragazza anche un giro d'Italia che deve gareggiare pensando a avvisare la compagna a saper qual è la strada giusta vada a destra vada a sinistra arrivi a un incrocio la staffetta non c'è che si fa capisco capisco che ci vuole santi soldi però la vita è una sola per dire Giovanni Iannelli un ragazzo di 20 anni la vita l'ha persa ecco come la vivete voi questa è vero che siete giovani spensierate bla 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 però poi quando succede una disgrazia come questa e come la vivete questa situazione che non mi sembra di capire io ebbi il coraggio di di parlarne no ho sempre il coraggio di parlarne non ho non ho bisogno non ho portrone quindi non ho bisogno di stare a scia del gruppo però vedi che suscitò molto molto in 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 ci sono persone indignate per questa mia uscita e voi ragazze come la vedete questa cosa noi sicuramente ehm avvisiamo comunque cerchiamo di fare arrivare eh quello che non va tramite l'acpi o comunque facendo scrivendo all'organizzazione che quella gara non era del tutto in sicurezza in modo da migliorare questo aspetto ovvio noi in gara cerchiamo di essere sempre attente e oltre che alla gara anche alla sicurezza insomma a seguire il codice della strada insomma perché c'è il pericolo che qualcuno non lo segue soprattutto sì soprattutto comunque cioè o meno anche l'allenatore ce lo dice ce lo dice insomma se vi staccate o siete ritardatarie eh seguite il codice della strada perché il traffico non è chiuso del tutto quindi sta anche un po' nel buon senso a noi ecco senti per concludere detto che siamo i vicini all'ora ma una tua una ciclista è un ciclista che ammiri con particolare attenzione che magari a volte ti può anche ispirare i sogni o o qualcosa anche di più concreto quali sono? eh Peter Sagan perché comunque secondo me è un personaggio e e lui la vive cioè la vive molto sembra quasi spensierato insomma per quanto ti rivedi caratterialmente ti rivedi nel carattere Peter Sagan? sì un po' un po' fuori sì quello sì mi piace come a te ci stai facendo fare un'idea un pochino non perché ti si vede lì tutta anche quando ti contatto su messenger che mi rispondi sei tutta ordinata no? mi sembra invece insomma c'è anche un po' di matto dentro di te sì sì c'è un po' di pazzia sì sì quella c'è e invece per farlo cicliste bisogna essere matte un pochino matte c'è bisogna essere matte sì in effetti uno sport è talmente duro e di sacrificio che qualche qualche dote in più diciamo così la dovete avere per continuare imperterrite a a voler fare di questo sport è un lavoro esatto a volte dico ma che me l'ha fatto fare però alla fine devo spero alla fine sono ancora a poi quindi poi si sa quando una donna è appassionata di qualcosa no? perde la testa per qualcosa difficilmente fino a che non gli passa si può anche portare fuori rotta no? quindi col ciclismo nel sangue la bicicletta non si tocca eh infatti sicuramente c'è Albina che ti saluta ti fa un grosso un bocca al lupo perché sei una cara ragazza e quindi abbiamo scoperto che anche un pochino di mattarella c'è non è solo la la mia diciamo amica e con sonni che ho avuto dopo tanto tempo l'onore di intervistare ma siete un pochino tutte siete tutte in gruppo io diciamo sì sì chi più chi meno bene e con questa simpatica intervista in compagnia intervistata più che di intervista fatta a Debole Silvestri anch'io gli auguro di continuare con questa sua passione di impegnarsi e di ottenere tutto quello che sarà in grado di poter conquistare perché sempre con lealtà sempre senza l'uso del doping se non ti cancellano dagli amici che oggi funziona tutto magari la prossima volta si enterà anche il discorso dei social perché visto che anche voi cicliste ora dovete essere anche abbastanza social no marketing eh sì per comunque se vogliamo raggiungere un po' di visibilità dobbiamo farci conoscere quindi si fa anche questo si fa anche questo bene io saluto tutti un buon pomeriggio una buona serata e vi ricordo che stasera avremo qui qui con noi una ex una fresca ex ciclista che sta studiando per diventare allenatrice che si chiama Vassallo è della Racconici una ragazza che ci potrebbe svelare tante cose che riguarda un conto essere ciclista un conto è vedere il ciclismo da ciclista un conto è vedere il ciclismo anche dal direttore sportivo quindi sono curioso di intervistarla quindi un arrivederci a stasera e grazie a tutti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti